Oh, ce l'abbiamo fatta, vai, di corsa Facciamo due partite ancora E poi vado a letto perché sono stanco Tornerò domani Mattina Poi domani sera, sì, volevo dire a tutti Di presentarsi tra le 19 e le 21 Faremo una live con ospiti domani sera Poi domani sera, on va a fare Un On va fare un live Sur Xbox One Avec des invités Donc entre 19h 20h On va, même 21h, on ne sait pas, maintenant on va voir Le temps qu'on mange, qu'on fait quoi Donc il y a des invités Même chose pour le dimanche 19 Donc c'est bon En quel domani c'est le nom et un autre invitato Sempre per Xbox One 5 4 3 2 1 The battle has begun Aiuto Il muro Il muro Il muro Oh no, un giuve là Che c'è la fia qua qua? Ah, c'è là bas Oh, putain Oddio, è di qua Oh Ah, io l'adoro questa Ah, io l'adoro questa Vai Non me devo rifà Ah, aspetta dovevo fare un coso Questo Un agente Oh, shiny Dai andiamo Eh, prima abbiamo perso Dove cazzo Ah, si là Abbiamo perso abbastanza da schifo Eh, me la dovevo un attimino di imparare queste cazzo Di Nooo Perchè Divi il perchè Dara Eccomi, ci provo, ci provo Eh, madonna santa Che sfiga però Una partita Questa sarebbe una partita accia Mettiamola in... Oh Eh Si, ho capito però E non ce l'hanno fatta dopo E non ce l'ho Noo E non ce l'ho E non ce l'ho Anche Perchè Un'altro Puoi che danno un po' pochi soldi per comprare la roba dei potenziamenti? Cazzo è sta roba? Madonna santa, ma mi stanno disintera questa partita, è difficile Questo è bravissimo, dicevo E' una potenza Ciao, ho un almeno l'uccisa Per la chat utilizzo il mio iphone Con 5S Ah che peccato Comunque scusatemi se sono un po' in ritardo Se qualcuno mi scrive Se qualcuno mi scrive, eh Ho un telefono preparato A mio amico E io penso di chi mi scrive Comunque provo un po' di giochi anche su PC Anche per Xbox One 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 Mamma mia Mmm Ehm Bah, sono fuori Non c'è niente da fare Andiamo Cazzo 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 Si può dire qua sul PC Cazzo O no Se mi cazzano tutti Cazzo Pesco O no Pesco Sì Cazzo A Sì In Ci Si Si non c'è nessuno che guarisce perchè mi fate dire tutte queste parolacce perchè siamo arrivati quasi mettiamo la mia non so se serve la mia io non ho capito si ciao no no ah post eh ma io non ho fatto tanto non c'è l'acqua perchè non c'è l'acqua non c'è l'acqua ah boh diciamo comunque mancone si allena sono tornato in gioco tranquillamente in pvp da meno si allena col pv ma io proprio ho voluto fare da sborone proprio raga qua sto al migliore la madonna ma chi cazzo è oh ma sempre sto cagarrottura de cazzo oh ma stavo la stavo come cazzo mi ha fatto a prendere ammazzato qua buh io non capisco cazzo io non capisco cazzo come ho fatto eh c'è mi beccano la stai eh che cazzo 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 a posto non c'è l'ha sempre lui comunque ce l'abbiamo fatta dai 3 dobbiamo solo arrivare la dunque mi tengo la mia no mi tengo la mia ultra per l'ultima i will not not yet va a cagare t'ha ammazzato va davanti bravo ma che cazzo ma cazzo si spiniamo minchia che è questa roba ho paura allora o io vado alla drift no ma perché dovevo andare lì a metterla super ma no non se può però raga non se può eh ma abbiamo vinto un minuto no un minuto però stiamo là a posto ce la vorremmo fare eh io devo mettere sta cazzo di super però se no porcazzo che cazzo cazzo di super cazzo di super cazzo di super nooo vinto oh eeeh io ho messo una superona dai come un cretino ho detto ho la super e non l'ho utilizzata al primo se no avremmo già vinto che che eeeh via la super uff 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 Tieni, India. Mamma mia. Che ho fatto? 10, 14 morti... Ah, dovrei un altro coffre? No. Ah, devo giocare 3 partite. Oh, grande l'ho trovata. Devo giocare 3 partite, ma io ne ho già giocata una. Non ho capito perchè non me l'ha data la seconda. Ora apriamo la seconda. Vabbè, andiamo. Sì, sì, per me... Oh, mamma mia, quest'altro. E poi? Questo cazzo di... Sky. Io voglio Sky. Bella Sky. Mi piace. Andiamo. Sì. 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 E poi c'è... Sta pure sto coso delle... Come si chiama? Delle... Delle carte anche. È un po' misto. Cioè... Le carte che aiutano il giocatore, però... Non lo so. Io l'ho provato, ma non è che mi sembra... Non lo so. Non lo so lo so. N'è nulla, no lo foie, le carte, però non lo so lo so... Non lo so. Qu'è... Ce... Ce jeu d'eplicare. Tu... Ce jeu d'eplicare. Tu chies les cartes que tu veux quoi. Pour don... Le meilleur solution de jeu quoi. Mais... On dirai pas que ça marche vraiment quoi. Ahah 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 C'est incroyable Oh Ahah 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 Per fortuna le parolacce non le ho dette in italiano e in francese Forse raga Non mi buttano fuori dalla live mia stessa Cioè Quello lì è proprio un gran bastardo Un po' allenato prima Provo tutta sta cosa La prima martiglia era buona Secondo l'ho vinta però Questi sono forti Quelli dall'altra parte sono Chegno 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 Ed Di Chegno 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 � dovrebbe essere inizio un attimino a fare gli aggiornamenti di tutti gli altri giochi comunque sceglierò qualche gioco anche se è su Steam un attimino vedo un attimino quei giochi che ho per andarli in live queste sono proprio disintegrate in 5 secondi in un minuto 5,4,3,2,1 dunque per le prossime dirette dopo di questa vedrò un attimino di farne una bella madonna sempre lo stesso ah no è lui guarda forse no mi incacchiavo cioè non è possibile ma c'è tutte delle armi possenti io non ho cioè io mi servono 50 anni vabbè facciamo un po' di invisibilità eh ma della so fortissimi eh cioè una roba allucinante io già son morto ma che cacchia questa è proprio una partita di disintegrazione raga no io non ce la faccio non è che poi manco qua non ho comprato nulla proprio sì ma me la son buttata addosso da solo ma mamma mia non è che cacchia che fa fare ma non è che cacchia che fa asci Non, 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 non. Non, 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 non. PC oppure Xbox One, adesso deciderò. Poi invece mi riposo il pomeriggio perché poi la sera come ho detto ho ospiti in diretta da casa mia con con l'Xbox One giocheremo. Dunque pronti? No basta. Ma me l'ha messo qua il coso che... eh infatti non ho capito. Forse vincere, cioè giocarne tre ma vincerne tre sicuramente perché ne ho vinta solo uno. Dunque sì domani sera, donc je le dis en français. Donc je vais faire un direct demain matin déjà. Et je me repose un peu l'après-midi, après le soir j'ai des invités chez moi et donc on va faire une mega live sur Xbox One cette fois. Je pense qu'entre 19h-21h on va commencer pour 2-3h. Et le matin je vais faire la mise à jour de mes jeux et je vais demain matin jouer sur PC je pense. Bon merci beaucoup encore pour cette... Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Je vais mettre la vidéo sur mon canal Youtube qui s'appelle Paolo Lazzarini. Donc je suis en photo à la plage avec le maillot du PG. Allez PG. Eh oui, je suis supporter du PG. Et donc sur ma chaîne vous allez trouver aussi toutes les vieilles vidéos que j'ai faites. sur la chaîne YouTube, Paolo Lazzarini, con photo che sto al mare, con la maglia del Paris Saint Germain, potreste vedere tutte le altre, tutte le altre live. Grazie mille e alla prossima.